No, non può essere. Sei tu di Century Hills, giusto? Un momento, sei della Voltec? Io sono la Voltec. Vent'anni di fedeltà all'azienda e adesso guardami, non ero sulla lista. Ma invece, tu, duecento anni e sei la perfezione. Come? Come è possibile? Non lo sai? Non te l'avevano detto? Detto cosa? Cosa non mi hanno detto? Come hai fatto a restare uguale dopo duecento anni? Nel Volt c'erano quelle capsule per libernazione. È da poco che ho lasciato la mia. Cosa? La Voltec non me l'aveva detto? Incredibile. Beh, io ho conosciuto il futuro a mie spese, vivendo nello schifo, nella decadenza e nel sangue. Guardami. Sono un ghoul. Uno scherzo della natura. Ci sono altri ghoul che vengono dal passato? Tipo quel pazzo di Kent e Daisy tutto mi scivola addosso? Sì, ce ne sono un paio. Ma nessuno del quartiere, nessuno della Voltec mi hanno abbandonato qui. Non prenderla a male, ma non è che prima fossi così bello. Sei... sei la prima persona che incontro da... da prima. Da prima che io... Dio mio. Mi sono sentito così solo. Nessun insediamento del Commonwealth vuole un ghoul con duecento anni di esperienza di vendita alla Voltec. Potresti tornare a Sanctuary. Verrò a trovarti, promesso. Davvero? Tu... Lo farai? Ok. Ci andrò. Ricorda che hai promesso di venire a trovarmi, eh? Allora... Ci vediamo. Scusa. Allora... Verrai a trovarmi? Allora... Verrai a trovarmi?